Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo tutorial. Oggi il tema sarà un film horror che si chiama Smiley, un film del 2012 arrivato in Italia solo nel 2013. La maschera che andremo a fare sarà questa qui. È molto semplice rispetto all'altro tutorial, però comunque vi ci vorrà un po' di tema. La potete variare in tantissimi modi, siccome nel film non la vedete mai sempre uguale. Io l'ho fatta molto semplice, con poco effetto sangue, però potete mettercene molto di più o molto di meno, come preferite. Un consiglio che vi do è di mettere subito il color carne nel lattice. Io nel video ho usato il nero come color base, però per semplificarvi la vita vi consiglio di mettere subito il colore nel lattice per evitare troppe mani di colore da fare. E niente, vi lascio al tutorial. Buona visione! Iniziamo prendendo la maschera di carta di carnevale, la riempiamo di gesso, così ad avere un calco solido su cui lavorare. Limpiamola fino in cima e lasciamola asciugare qualche ora. Una volta asciutto il calco, iniziamo a lavorarci sopra con la pasta modellante e la creta. Io vi consiglio di iniziare a coprire prima di tutto tutta la faccia e poi focalizzarsi a coprire interamente il naso in modo tale da appiattirlo il più possibile. Solo alla fine io vi consiglio di fare gli occhi e il taglio dalla bocca. Prima di tutto bisogna per bene appiattire e lisciare tutta la pelle, così da farla sembrare una pelle vera e non una maschera costruita. questo dovrebbe essere un'altra parte che è iniziale. dovrebbe essere il risultato finale ora finiamo di lisciare la pasta per bene così ad avere un risultato omogeneo e abbiamo finalmente finito il calco della nostra maschera mettiamo il gesso e mettiamo il calco fatto prima cerchiamo di non farlo né troppo asciutto né troppo liquido così da poterlo modellare bene intorno alla maschera ora lasciamo l'asciugare per qualche ora una volta che il gesso si sarà asciugato togliamo il calco e tutta la creta o pasta modellante al suo interno passiamoci il borotalco e infine puliamo con un pennello asciutto così da togliere ogni residuo ora finalmente abbiamo un negativo della nostra maschera ora possiamo iniziare a stenderci dentro il lattice facciamo come al solito almeno 4 strati di solo lattice così da fare una base abbastanza solida lasciamo asciugare il tutto se preferite potete usare il phon così da ridurre i tempi quando anche l'ultimo strato sarà completamente asciutto iniziamo a passarci su altri due strati di lattice e scotex facendo sempre attenzione che lo strato sotto sia asciutto usiamo sempre il phon per asciugare in fretta infine lasciamo la maschera almeno 3 ore nel gesso prima di togliarla grazie a tutti grazie a tutti ora possiamo tirare fuori la maschera dal nostro negativo ingesso facendo attenzione a non piegare o stropicciare la maschera vi consiglio inoltre di iniziare a staccare prima di tutto il contorno così da evitare il strappio che si rovini la maschera prendiamo la maschera e tagliamo il lattice in eccesso poi tacchiamola sulla testa del manichino iniziamo a passare uno strato di scotex elattice lungo il contorno e allunghiamo i bordi della maschera di almeno 5 cm così da avere più margini di errore per evitare di avere una maschera poco coprente e così poco realistica grazie a tutti e Passiamo un secondo strato di lattice scotex, facendo attenzione di appianare per bene il dislivello con la maschera Ora passiamo almeno 4 strati di solo lattice, così deve aver fatto lo stesso procedimento ma al contrario della maschera iniziale Iniziamo a colorare usando i colori acrilici diluiti con dell'acqua, così da evitare crepe sul colore Stiamo tra le mani di color carne, poi passiamo dal bianco così da rendere la maschera più pallida Infine stacchiamo la maschera dalla testa, la ritagliamo e apriamo i buchi degli occhi e della bocca Volendo questo passaggio si può fare anche prima di colorare Ora coloriamo di nero gli occhi e la bocca, poi a nostro piacimento possiamo personalizzare la maschera come ci pare, facendo effetti di sangue o altro Prendiamo ago e filo e cuciamo gli occhi e la bocca Per gli occhi fate attenzione a non chiudere troppi buchi per vedere Ora abbiamo la nostra maschera ultimata Ora abbiamo finito di fare la nostra maschera Basta solo attaccare un elastico dietro e possiamo indossarla Spero che il video vi sia piaciuto Se volete mettete un mi piace e iscrivetevi al canale A presto con un nuovo tutorial o un nuovo lavoro Ciao!